In questo video guardiamo i segnali di precedenza, di vieto e via via, poi dopo vediamo tutto. Allora, questi cartelli vengono chiesti, sia che tu faccia la patente C1, C, D1, D più E. Iniziamo subito. Allora, in presenza del segnale raffigurato, innanzitutto questo cosa indica? Sono segnali di precedenza che indicano. Allora, se vedi questo rosso, vuol dire che sei in una strettoia dove è rimasto un solo spazio per un solo veicolo. Quindi è un senso unico alternato. Senso unico alternato vuol dire che è rimasto uno spazio solo per un veicolo e può passare in quel tratto di strada proprio solo un veicolo. E chi ha il cartello rosso vuol dire che deve dare precedenza al veicolo che sta arrivando dalla parte opposta. Dalla parte opposta, per fargli capire che la precedenza ce l'ha lui, gli mettono il cartello blu che dice appunto hai tu il diritto di precedenza rispetto al veicolo che arriva di fronte. Quindi chi vede il blu deve passare prima lui, chi vede il rosso deve far passare prima quello che arriva dalla parte opposta. Attenzione a questa domanda. Essendo la guida di un veicolo ingombrante, dobbiamo accertarsi con molta prudenza che i veicoli provenienti dal senso contrario siano disposti a farlo passare. Perché può essere che io abbia la precedenza rispetto a quello di fronte, ma devo anche assicurarmi che lui sia disposto a darmela la precedenza. Quindi attenzione a cosa dice qua. Il conducente deve evitare di incontrarsi con altri veicoli all'interno della strettoia? Certo, perché è rimasto solo uno spazio. Quindi ci passa solo un veicolo. Alla guida di un veicolo ingombrante accertarsi con prudenza è che i veicoli provenienti dal senso contrario siano disposti a dare la precedenza. Vero? Vediamo un video, vedi? Vediamo un video. Guarda cosa succede. Succede che stanno andando... Vedi, questa è una strettoia. Hanno rallentato proprio perché... Quando c'è una strettoia il primo comportamento da attuare è proprio rallentare. Ma siccome qui non ci sono cartelli di precedenza, allora in questo caso qui possono anche passare insieme rallentando. Va bene? Questo era un esempio. Andiamo avanti. Vediamo questo esempio qua. Questo esempio è un cartello di divieto che dice appunto non puoi avvicinarti al veicolo che segue ad una distanza inferiore a quella indicata. In questo caso c'è scritto 70 metri. Cosa vuol dire? Che è un distanziamento minimo obbligatorio. Non possiamo avvicinarci a meno di 70 metri. Può essere posto sul tratto di strada dove non si vuole che troppi veicoli pesanti transitano contemporaneamente. Certo, può essere proprio posta lì. Un altro esempio è questo. Vedi? Non vogliono che due veicoli siano contemporaneamente sullo stesso tratto di strada. Allora mettono nel cartello. Quando tu puoi salire? Quando puoi salire? Quando su quel tratto il veicolo è arrivato alla fine. Quindi distanziamento minimo obbligatorio. Questo è un cartello che dice divieto di sorpasso per autocarri o veicolo non destinato al trasporto di persone che ha un peso superiore a 3,5 tonnellate. Tu sei il veicolo rosso e quindi sei un veicolo che porta merce. E se in questo caso la tua massa supera 3,5 tonnellate allora tu non puoi effettuare il sorpasso. O meglio, c'è un'eccezione. Puoi superare qualcosa. Adesso vediamo che cosa. In questo caso, come fai a capire se quel cartello fa riferimento a te oppure no? devi guardare la carta di circolazione. Se sulla carta di circolazione c'è scritto che il tuo peso a pieno carico è superiore a 3,5 tonnellate allora quel cartello fa riferimento a te. Quindi non importa se in quel momento sei vuoto. Ti faccio un esempio. Stai con me adesso. Attento a quello che ti dico. Se tu pesi vuoto 2 tonnellate e il tuo carico massimo, quindi la tua capacità di carico è di 7, in questo caso il tuo peso vuoto più 7 ecco che diventa 9. Però in quel caso lì stai passando vuoto. Quindi quanto pesi? Pesi 2 tonnellate. Secondo te fa riferimento a te il cartello? Bravo! Certo che sì! Perché abbiamo detto che fa riferimento il peso riportato sulla carta di circolazione. E non solo. Fa riferimento solo se sei un veicolo adibito al trasporto di merci. Quindi se sei un autobus di 30 tonnellate tu questo cartello non lo guardi neanche. Se non hai capito riguarda di questo video. Un'altra cosa. C'è un'eccezione in questo cartello. Ovvero anche se tu sei un veicolo il veicolo di riferimento ovvero che superi 3,5 tonnellate e sei un veicolo merci puoi superare solo i veicoli senza motore. Quindi c'è qualcuno che puoi superare? Non ti sento? Bravo sì solo quelli senza motore rimanendo però sempre all'interno della tua semi carreggiata ovvero non puoi andare mai dalla parte oltre la linea di mezzeria oltre alla linea che divide i sensi di marcia. Quindi stai bene attento a quello che ti ho detto. Questi sono veicoli adibiti al trasporto di persone e questo cartello non lo guardano neanche. Ok? Chiaro? Se non è chiaro riguardati questo video. Questo è un altro esempio vedi che sotto il cartello c'è scritto 5 tonnellate cosa vuol dire? Vuol dire che anziché il divieto valere per i veicoli superiori a 3,5 tonnellate fa riferimento ai veicoli superiori a 5 tonnellate perché in questo caso il pannello integrativo ha cambiato la sua importanza. Stai bene attento a questo esempio che ti faccio adesso. Perché? Perché la legge dice che in presenza di questo cartello che stiamo studiando e in presenza di una strada extraurbana quindi fuori dai centri abitati quindi stai attento stai attento sei su una strada fuori da un centro abitato in presenza del cartello che abbiamo visto adesso tu sei questo veicolo qua dove il divieto dove ti è vietato fare il sorpasso e ti accorgi che davanti a te c'è un veicolo come te come fai a saperlo? Perché nella parte posteriore anche lui ha questo cartello qua questo pannello che fa riferimento a che cosa? Chiunque abbia dietro questo pannello questi due pannelli vuol dire che sono veicoli adibiti al trasporto di merce superiore a 3,5 tonnellate e quindi anche lui deve rispettare quel divieto quindi se sei in presenza di una strada extraurbana a doppio senso con una corsia che va e una che viene in presenza di questo cartello non puoi avvicinarti ad una distanza inferiore a 100 metri dal veicolo che ti sta davanti perché questo? perché devi garantire il sorpasso a chi può farlo se io sono un'autovettura dietro di te io devo poterti superare e devo avere lo spazio davanti a te per superare te e poi devo avere lo spazio anche per superare quello davanti a te ricordati se non hai capito riguardatelo ecco qui l'esempio tra questo veicolo grigio e questo veicolo grigio in presenza di questo cartello e strada extraurbana tra di noi ci devono essere 100 metri per dare possibilità a chi può fare il sorpasso di poterlo fare sono ripetitivo perché voglio che prendi la patente e voglio che sia promosso quindi ascolta bene quello che dico va bene? questo è un altro esempio che ti fa vedere che se tra questi autocarri vedi? se tra questi autocarri non viene rispettata questa norma cosa succede? si crea un muro di veicoli una fila di veicoli e i veicoli che possono superare non riuscirebbero a superare e quindi lo farebbero in condizione di pericolo quindi attenzione spero che sia stato chiaro divieto di transito per autobus questo cartello dice che da qui in poi gli autobus non possono transitare circolare e fa riferimento sia agli autobus sia ai scuolabus sia ai minibus tutto quello che finisce con bus quindi tutto il resto possono passare quindi chi è che può passare con questo cartello? gli autocarri possono passare? bravo si perché gli autocarri non sono autobus le moto possono passare? si perché non sono autobus e gli autocaravan possono passare? si perché non sono autobus un minibus può passare? no perché il minibus è sempre bus e quindi non può passare ti ricordi quando abbiamo parlato di questo di questo veicolo rosso? ti ricordi che cos'era? che cos'era? dillo tu alza un po' la voce se no non sento molto bene si è proprio quello è un veicolo adibito al trasporto di merci che dove la sua massa supera 3,5 tonnellate ecco lì non poteva superare qui questo veicolo non può transitare quindi qual è il veicolo che non può transitare? il veicolo che a pieno carico riportato sulla carta di circolazione supera 3,5 tonnellate ricordati che anche in questo caso con un pannello integrativo vedi come in questo caso il tonnellaggio può cambiare quindi da 3,5 diventa 5 tonnellate questi non sono veicoli adibiti adibiti alla merce e quindi loro possono passare tranquillamente divieto di transito divieto di circolazione questo è un altro esempio che anziché superiore a 3,5 fa riferimento alla massa ma solo se è superiore a 6,5 va bene? va bene ti chiudo qua questo video così andiamo avanti con il video successivo in modo tale che rimane corto e puoi sempre aver voglia di rivederlo ciao al prossimo video grazie a tutti